e poi arriva Alessandro Di Battista a cui dobbiamo chiedere sostanzialmente ma cosa vuol fare Di Battista da grande? ancora non l'abbiamo capito torniamo subito grazie, io ringrazio Claudia Fusani ringrazio... beh, il fatto che venga così tanto in tv vuol dire che un'idea chiara ce l'ha di Battista oppure cerca di raccontarla riparmi capire grazie al senatore Maurizio Gasparri grazie all'onorevole Andrea Colletti grazie al professor Pasquino ci vediamo domani stessa ora, stessa rete adesso c'è l'aria che tira tweet finale con Claudia Fusani la prossima volta che viene Gasparri secondo te sarà candidato... no? non credo, è ancora presto beh, di quenne, si vede una settimana prossima o si vede fra due settimane? ah, va bene la settimana prossima è ancora presto, penso va bene, ci vediamo tra qualche settimana Gasparri, allora ci vediamo comunque sì, non c'è dubbio grazie, buon lavoro e a domani